Aprela. Agli ordini... Ehi. Svegliati, amico. Questo è Cronul. Pare sia di moda in testa al treno. Sta' attenta, è un allucinogeno. È fatto di rifiuti industriali. Ed è altamente infiammabile. Sei Nankun Minsu, esperto in sicurezza. Hai progettato tu le serrature e i sistemi di sicurezza del treno? Questo è andato, guardate che occhi. Si è bruciato il cervello con quella merda. Sei tu, Nam? No, mam. Nam, mi capisci? Nam, inna, nam. Sì, ti capisco. Ora. Sì, ti capisco. Ora. Per arrivare alla locomotiva, abbiamo bisogno che tu ci apra le porte. Sì. 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 Sì.